Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi verrà dato in sovra più, disse Gesù Cristo. Il regno di Dio quindi è fondato sulla giustizia. Quanti sono i cristiani che cercano davvero la giustizia? Se un cristiano che ha certi incarichi sociali importanti è testimone dei soprusi delle palesi discriminazioni personali e sociali, ma poi tace per il quieto vivere, può dirsi davvero cristiano. Nell'ambito della Chiesa coloro che assistono indifferenti a certi evidenti soprusi, ma non intervengono quando lo possono davvero fare, cercano seriamente il regno dei cieli. Perché molti laici con ruoli importanti, sacerdoti e vescovi eccetera, non intervengono, anche con solo qualche pubblica parola nel nome di Gesù, a difendere coloro che subiscono ingiustizie da parte dei prepotenti? Per caso il don abbondio manzoniano è un modello da imitare? Ricordiamoci che Dio, amore onnipotente e somma giustizia, ci osserva richiamando continuamente la nostra coscienza, ma per coloro che non si convertono ed inaridiscono il loro cuore, la sua giustizia avrà il sopravento sulla misericordia.